Saranno sette i punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di Battipaglia, come reso noto sul sito comunale dal Presidente del Consiglio Francesco Falcone per il 28 dicembre alle ore 15 in prima convocazione. Ai sei in programma si è aggiunta la mozione presentata dal Consigliere Alfonso Baldi, avente per oggetto l'intitolazione della Villa Comunale di Belvedere a Carmine Battipede. Gli altri punti sono le interrogazioni ed interpellanze, la revisione periodica delle partecipazioni societari del Comune, la costituzione del nuovo ambito territoriale, il regolamento sulla conclusione del procedimento amministrativo con l'approvazione ed infine il Consiglio dei Ragazzi con le modifiche dello Statuto ed approvazione del nuovo regolamento.